L'Emilia Romagna con le celebrazioni della grande guerra ha voluto far emergere ciò che è successo sul nostro territorio in quel periodo. Lo ha fatto un anno fa con una mostra fotografica dal fronte alle retrovie. Lo ha fatto con una pubblicazione con due saggi, uno di Luca Gorgolini e uno di Carlo De Maria che hanno riportato alla luce documenti, cartoline, lettere inviate dai fanti al fronte alle loro famiglie, ai loro amici, alle loro comunità. Raccontano delle difficoltà dello stare nel ghiaccio nelle trincee sulle Alpi, raccontano del fango nel periodo delle piogge, raccontano di quando ricevevano ordini che dovevano arrivare alle linee dei nemici, passarle sotto i contraccolpi delle mitragliatrici, dei mortai e soprattutto all'assalto con le baionette. Delle paure dei gas micidiali e non avere le attrezzature adeguate e il grandissimo dolore di vedere la scelta di uno su dieci, in alcuni casi, quando non riuscivano a superare le linee nemiche e venivano fucilati sul campo per la cosiddetta codardia. Lettere e documenti nelle quali si legge l'orrore, l'inutilità e l'assurdità della guerra. Sono tanti ragazzi che provenivano da più parti d'Italia, semi-analfabeti che parlavano cento dialetti e che facevano fatica a intendersi fra di loro. Sono quei ragazzi che hanno portato e hanno dato allo Stato la vittoria, uno Stato che non rappresentava tutti gli italiani.